Lo Sciclub 13 di Clusone si appresta a festeggiare i 60 anni di fondazione. Torniamo subito a 60 anni fa, perché fu scelto questo nome? Fu scelto questo nome innanzitutto il 2 dicembre del 52 presso il vecchissimo hotel Terminus si trovarono 13 persone e hanno deciso di formare questo sodalizio il sodalizio ha preparato sullo sci alpino e nordico e dunque gli ha dato Sciclub 13 visto che loro non sapevano come darlo, che nome intraprendere, hanno voluto dare erano in 13 e hanno detto chiamiamolo Sciclub 13 Clusone. Volete appunto festeggiare questi 60 anni con una serie di iniziative che si aprono proprio questa settimana andiamo a vedere la prima. Benissimo, venerdì sera iniziamo i festeggiamenti dei 60 anni che dureranno tutta la stagione invernale. La prima è venerdì sera presso il teatro Monsignor Tomasini, qua all'oratorio alle 9 e abbiamo invitato un ospite illustre Pietro Trabucchi, un psicologo sportivo che lavora presso l'Università di Verona è un psicologo che lavora tanto sullo sport, sulla resistenza sportiva e questo invito è aperto ad atleti, genitori, allenatori, responsabili di vari settori, di tutti gli sport siete invitati tutti, l'ingresso è libero da lì passiamo al sabato, sabato mattina inizieremo in paese il centro di Clusone con delle postazioni, dei gazebi che presenteremo la nostra ski card. La ski card è la tessera dello Sciclub che con 20 euro ti dà la possibilità di andare presso le attività convenzionate negozi, attività artigianali che ci sono convenzionati con noi e hanno lo sconto. Il pomeriggio ci sarà la sci-ass, la sci-ass è una, non neanche una gara, una manifestazione goliardica sono tutte squadre composte da 4 atleti, atleti o non atleti, è uguale, l'importante è che abbiano un costume simpatico di cui verrà premiato anche quello alla fine gara, alla fine manifestazione e si fa una delle sfide da Piazza Uccelli verso la Piazza dell'Orologio. Finite le premiazioni di questa manifestazione ci sarà l'estrazione della lotteria, della sottoscrizione a premi che ha organizzato lo Sciclub, una bellissima sottoscrizione piena di premi ma ce ne sono tantissimi il primo premio immaginiamo è una cucina Salvarani. Da lì ci trasferiamo in Piazza Manzù in Piazza Manzù ci sarà la grande festa nella tenso struttura organizzata sempre da noi e dagli alpini e ci sarà una mega raviolata con presenti i pochi fondatori che sono rimasti perché gli altri purtroppo ci hanno lasciato ci sarà le autorità, il sindaco, il presidente Fisi, Fisi di Milano, tutte le autorità che ci hanno sempre sostenuto e sponsor, genitori, tutta una festa aperta a tutti i tesserati, aperta a tutti i simpatizzanti tutti quelli che lo Sciclub lo vede. Grazie a tutti.